ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indi game play ita oggi un ennesimo video su mobazoo per concludere proprio questa volta davvero davvero sul serio quello che è il il tutorial nel senso che adesso sono giunto questa mattina ad aver completato l'ultimo grosso step quindi la costruzione in due settimane ci sono volute dello speedway pagandolo ben 70 70 mila dollari presumibilmente dollari canadesi e in questo caso possiamo andarci direttamente con la macchina bella dai così ve la faccio vedere questa adesso ha il cambio manuale e l'ho configurata in modo da poter non troppo sgommare quindi gli ho messo una buona traction control perché sennò è incontrollabile su queste superfici anche il nos che non usiamo in questo caso voglio vedere quante benzina ho ce n'è tantissimo quindi andiamo a vedere lo speedway speedway magari facciamo anche due 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 gocce di benzina se disattivarsi dalla centralina il traction control sarei costantemente in in testa coda perché è potentissimo questa macchina penso nella sua forma più potente e questa macchina a differenza del del furgoncino del pick up si ammacca poi sicuramente rende meglio su sull'asfalto allora poi tra i nuovi obiettivi che abbiamo lì nel nel baracchino degli attrezzi ci sono vincere dei premi nelle varie gare ma questa è una cosa che onestamente mi interessa relativamente come potete notare dalla dei soldi che ho ormai vendo roba abbastanza illegale a botte di 10 mila dollari l'una quindi non ormai non non ha più senso neanche fare il lo sciroppo d'acero vediamo se riesco a fare benzina così svitiamo qui ma mi domando ma potrò fargli questa no si può usare solo questa ok facciamo un po di un po di benzina almeno siamo tranquilli vi farò vedere come ultima cosa lo speedway poi per me l'esperienza su man basur si può definire conclusa fino all'attesa di nuove patch anche se in basso a sinistra vedete che siamo la 296 c'è stata la nuova patch ieri la nuova patch non ha aggiunto che anche aggiunto la possibilità di nevischio infatti adesso tra il meteo c'è il nevischio si vede proprio nevischiare non si ricopre nulla ovviamente di neve e è stato aggiunto anche il conigli che attraversano la strada hanno aggiunto sul furgone un tasto che aggiunge gli abbaglianti niente di rilevante insomma e altri piccoli fixed cui questo utilissimo non si può più adesso incastrarsi nelle scale per andare nel bunker quindi questo qui adesso io ve lo mostro giusto solo come elemento di per ingolosirvi ecco perché ovviamente ci sarebbe anche il destruction derby insomma però la cosa più interessante vorrei vedere com'è all'interno e voglio farlo per la prima volta qui con voi l'autodromo l'ho presa un po lunga dovrà mettere la rete auto che va molto bene la in fondo lo troverete chiuso la prima volta adesso credo si possa entrare spero perché si infatti qua lo trovate chiuso adesso è aperto e questo è tutto tutto il circuito lì si possono iniziare a legare questo è il circuito in sintesi è nostro nel senso gli abbiamo dato noi 70 mila dollari altizi va bene qua abbiamo molto utile il compressore scusate il compressore all'interno qua abbiamo una pompa di benzina vediamo un attimo ho visto un foglio qui drag tra ok i tempi e qua i tempi a no questo da fare ci danno i soldi ci danno soldi se facciamo dei tempi determinati determinati tempi track lights posso accendere le luci del circuito quindi possiamo correre anche di notte spettacolo figata assoluta questo finalmente per poter cambiare le gomme in completo in completa autonomia in realtà ce n'è un altro già nella discarica questo è il compressore questo lo potete avere anche voi nel garage di casa gratis se portate al massimo l'amicizia con vostro fratello se no qua lo avete gratuito e potete gonfiare le gomme della pressione che volete voi ma non voglio esagerare qua avete una bilancia la bilancia continua a dire che siamo grassi questa è la modifica e qua abbiamo un'altra auto questa è la dobbiamo trovare altre tre parti di auto vincerle probabilmente vincendo le gare e avremo l'auto questa tipicamente un'auto da da nascar quindi da ovale qua invece abbiamo quello che dovrebbe essere un appartamentino cioè praticamente ora possiamo vivere qui c'è già la corrente abbiamo il retro adesso questo non è non è visitabile c'è la tribuna questo è l'arena del destruction derby quindi qui ci si demolisce c'è la gara di demolizione mentre invece in casa molto utile adesso non so se chi paga la corrente qua se noi o chi però abbiamo in sintesi anche qui la casa il letto per dormire lo stereo e computer computer che è il solito e qua la possibilità di cambiare e di chiamare abbiamo martin solito numero il computer solito computer qua chiudo perché va bene quindi possiamo poi vivere essenzialmente qui soldi non ci mancano c'è la luce non so chi pagherà appunto la bolletta di tutto questo però questa è la casa nuova qua abbiamo invece cos'è che è ok l'iscrizione domenica entro le 6 e le 12 e possiamo partecipare al destruction derby non dovresti mai scendere dall'auto va bene durante la gara insomma questo è l'ultimo step ovviamente non è finita perché bisogna completare l'auto da nascar ovviamente non ci sono parti diciamo un po alla maesa mercato dove si vanno a montare del motore come non lo era nemmeno qui perché a dire la verità montare il motore di quest'auto è stato molto semplice per quanto tantissime viti avevo sparse sul pavimento ma alla fine è molto semplice c'è il turbo lo scarico l'abs e sotto c'è lo scarico ma è molto molto semplice quindi niente di niente di che questo è lo speedway qua potete fare le gare qua potete appunto raggiungere quello che è l'end game a questo punto del gioco io ho dato i miei suggerimenti allo sviluppatore tra l'altro se guardate in casa non questa ma l'altra l'acqua interagendoci qua no con l'urbinetto ma nell'altra casa si ci dice che non è ancora implementata quindi si sa mai che cosa possa diciamo succedere in futuro la è spento qua è acceso sarebbe da vedere di notte come è bello da vedere comunque ragazzi qui la benzina la facciamo tra l'altro non so nemmeno chi paghi in questo caso voglio provare a vedere se si paga ma probabilmente si ho fatto salire al massimo anche la reputazione del tizio della stazione di servizio quindi possiamo farla quando vogliamo ovviamente pagando ok proviamo ad andare indietro voglio provare a fare benzina proviamo e vediamo se paghiamo ah ma guarda che figata questa cosa praticamente mi è nuova però qui dovremmo avere il contattore the fuel tank is empty infatti dobbiamo pagare chiamando questo numero 555 3835 3835 proviamo a chiamarlo e ce la facciamo rifornire allora 555 3835 allora 1120 1000 litri premiamo 1 per confermare ok in un giorno lavorativo ci verrà rifornita bellissima anche questa meccanica qua mi fanno impazzire queste cose ragazzi con questo io concludo definitivamente in attesa di un nuovo patch il tutorial su mombazoo tutorial l'ultima volta l'ultimo quest'ultimo episodio ce lo siamo goduti insieme perché ho voluto provarlo proprio in diretta e qua gioca a qualcos'altro qua gioca a Diablo Diablo 1 incredibile non gioca a ultimo online bella questa iniziativa l'apprezzo tantissimo ringrazio tutti voi per avermi seguito finora chiudiamo qui e alla prossima ciao ciao